Notiziario del commercio. Zone franco-urbane. Sappiamo che alcuni territori della nostra regione sono state destinate dalla legge come zone franco-urbane. Infatti la legge 221 del 2012 prevede la concessione di agevolazione sotto forma di esenzioni e sconti sul reddito sia di IRAP, di IMU e dei contributi sul lavoro dipendente per le micro-imprese, piccole e medie imprese, professionisti delle zone franco-urbane, delle regioni a dell'obiettivo convergenza che sono Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Le agevolazioni sono concessi alle imprese a titolo di de minimis, pertanto ciascun soggetto ammesso all'agevolazione potrà beneficiare delle predette esenzioni tenuto conto del contributo in de minimis ricevuti negli ultimi tre anni, che chiaramente sappiamo bene che non può superare i 200 mila Euro. Le agevolazioni possono essere concesse in favore di micro e piccole imprese localizzate all'interno delle 33 zone franco-urbane delle regioni, appunto Calabria, Campania e Sicilia. Si considerano micro-imprese quelle che chiaramente non hanno più di 10 dipendenti e un bilancio, un fatturato non superare i 2 milioni di Euro, mentre piccole imprese, quelle che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato sotto i 10 milioni di Euro. Cosa danno queste agevolazioni? Consistono nell'esenzione delle imposte sui redditi, dall'IRAP all'IMU e l'esonore del versamento dei contributi sulle retribuzioni del lavoro dipendente. Nel dettaglio, lo sconto per le imposte dirette, quindi applicabile già dall'esercizio in corso dal momento che viene accolta la domanda, arriva fino a 100 mila Euro, salvo eventuali maggiorazioni previste, per ciascun periodo, secondo i limiti che prevede la norma. Infatti, per i primi 5 anni addirittura la norma prevede lo sconto del 100% dell'imposta. Gli anni successivi poi scende al 60, 40 e 20%. L'esenzione IRAP. Per i primi 5 anni dall'acquadimento della domanda non si versa IRAP fino a un valore di produzione netta pari a 300 mila Euro. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre concorrono alla determinazione della produzione netta, detrazione o imposte riferite a periodi passati. Esenzioni IMO. Per i primi 4 anni dal via dell'accesso alle agevolazioni sono esentati dall'IMO tutti gli immobili commerciali utilizzati per l'esercizio dell'attività. Inoltre, come abbiamo detto in queste zone franco-urbane, l'esonero del versamento dei contributi sulla retribuzione da lavoro dipendente, il quale si può usufruire solo per dipendenti a tempo indeterminato, per dipendenti a tempo determinato solo se il contratto supera i 12 mesi. Viene anche lì un'esenzione totale del 100% per i primi 5 anni, mentre scenderà al 60% dal sesto al decimo anno. L'importo delle agevolazioni è concesso in base al rapporto tra risorse disponibili e richieste pervenute. Le risorse disponibili sono per la regione Sicilia di pari a 184 milioni di Euro. Quali sono queste zone franco-urbane? Le zone franco-urbane in Sicilia sono state diverse, quelle che magari maggiormente ci interessano sul nostro bacino d'utenza, possiamo citare Enna, Gela, Giarra, Messina, Sciacca, Trapani, Vittoria, AC Reale, AC Catena, Bageria, Barcellona, Pozzo di Votto. Queste sono già le zone destinate dalla norma come zone franco-urbane. Pertanto tutte le imprese che possono avere benefici da questa normativa sono invitati a contattarci per avere maggiori delucidazioni, come poter accedere a queste importanti agevolazioni fiscali. Voglio farvi una rata corrige sul notiziario precedente, in quanto abbiamo citato che sono in corso i rinnovi dei corsi per alimentaristi a Piazza Almerina e sono previsti per i giorni 23 e 25 di ottobre, non di settembre, come erroneamente citato nel precedente notiziario. Inoltre, come abbiamo già detto anche in quell'altro notiziario, sono avviate le iscrizioni per i corsi di primo soccorso e antincendio, già stabiliti per i territori di Piazza Almerina e Truina, ma a breve sarà stabilita anche la data per la zona di Enna. Concludiamo il notiziario informando tutti i tabaccai del nostro territorio che il 27 ottobre ci sarà un'importante riunione presso la sede provinciale dei Confesercenti per l'argomento tabacchi. Avete sicuramente chi è del settore avuto gli ultimi aggiornamenti riguardo le normative che riguardano i tabaccai. Noi avremo la presenza qui del nostro referente regionale di Asso Tabaccai per portare a conoscenza degli operatori delle nuove novità e di quali sono le opportunità che si possono cogliere per questo importante segmento, che rappresenta un importante servizio per la nostra comunità. Arrivederci e grazie per l'attenzione.